Ciao, ho appena ricevuto un messaggio e c'era scritto Finalmente la settimana è quasi terminata, buon venerdì! A me personalmente è venuta un po' di tristezza per questo messaggio perché pensare che una persona non veda l'ora che finisca la sua settimana è qualcosa di veramente un pochino triste e angosciante. Personalmente vorrei che fosse il lunedì di questa settimana perché avrei molto più tempo per fare le bellissime cose che mi piacciono e che continuo a fare. Perché le persone non vedono l'ora di terminare la loro settimana? Probabilmente perché stanno facendo qualcosa che non amano, stanno facendo qualcosa che non gli piace e quindi stanno sprecando il loro tempo, stanno sprecando la loro vita perché se tu ti rendi conto di che cosa vuol dire una settimana che se ne è andata vuol dire che tu hai una settimana in meno di vita a disposizione sì sì, proprio qui questo si tratta, non si tratta mica di qualcos'altro perché non è che le tue settimane saranno infinite so che è un pensiero un pochettino fastidioso ma è un pensiero che ti può salvare veramente la vita perché se tu pensi che quello che stai facendo non va bene per te perché non ti permetti di scoprire veramente che cosa ti possa far vivere pienamente le tue giornate che cosa ti faccia sentire che stai vivendo il tuo tempo e non lasciandolo passare, lasciandolo correre sperando che se ne vada il più presto possibile questo è molto connesso al fatto di non sapere bene chi sei e che cosa sei venuto a fare qui e sì, purtroppo il tema è sempre quello se tu non sai che cosa sei venuto a fare qui e non riesci a sentire uno scopo nella tua vita alla fine arrivi a vivere le tue giornate anzi, a sopravvivere alle tue giornate e a lasciarle scorrere sperando che finiscano il più presto possibile c'è chi spera che finisca presto la mattinata c'è chi spera subito dopo la mattinata che finisca presto il pomeriggio fino ad arrivare alla sera quando arriverà a casa magari stanco morto dove si metterà davanti alla tv e si guarderà magari una trasmissione addormentandosi davanti alla televisione questa non è vita certo che vuoi che passi il più presto possibile, mi sembra quasi un incubo se invece tu ti permettessi di usare bene il tuo tempo fai un esperimento oggi anche se magari non è proprio mattino presto da adesso che guarderai questo video fai una promessa a te stesso oggi farò solo ciò che mi piace quindi se sei al lavoro e non ti piace il lavoro prenditi una mezza giornata di ferie se stai facendo delle cose che non ti piacciono e lavori per conto tuo scegli di fare solo le cose che ti piacciono scegli di fare le cose che è necessario fare tipo non so, sei un bambino e devi andarlo a prendere a scuola non lo abbandonare lì magari ma fai qualcosa per rendere belli tutti i momenti della tua vita è possibile è veramente possibile quindi impegnati con te stesso a farlo almeno per un giorno ci prenderai gusto e magari lo farai per 2, 3, 4, 5 giorni e magari trasformerai tutta la tua vita questo è il mio stimolo per oggi ti abbraccio e ti auguro una giornata meravigliosa ciao goditi la vita